Grande Fratello VIP 7, sondaggi eliminato del gennaio, Nikita in testa come preferita. Chi sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello VIP del 16 gennaio 2023? L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini torna in onda lunedì sera su Canale 5 e al centro dell'attenzione, ci sarà il risultato del nuovo televoto settimanale che prevede un addio dalla casa. A differenza di quanto è accaduto nel corso dell'ultima puntata serale delle reality show Mediaset, questa volta è prevista una eliminazione definitiva dal gioco e tra le concorrenti a rischio spicca anche Nikita Pelezon, tra i volti più amati dal pubblico social di questa settima stagione. Nel dettaglio, le anticipazioni su Grande Fratello VIP del 16 gennaio rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast di questa settima edizione. Tre le concorrenti che, al termine della passata puntata, si sono ritrovate col maggior numero di voti a sfavore e quindi a rischio eliminazione. Trattasi di Dana Saber, Nikita Pelezon e Nicole Morge, spetterà al pubblico da casa decidere le sorti delle tre concorrenti di questa edizione e stabilire così il nome della concorrente che dovrà abbandonare definitivamente i cast di questa settima edizione. Uscendo di scena dalle reality show mediaset. In attesa di scoprire il verdetto definitivo nel corso della nuova puntata serale del GFG più di lunedì 16 gennaio. In queste ore impazzano i sondaggi legati all'esito di questa sfida al televoto tra le tre concorrenti. Anche questa volta, il pubblico dovrà votare a favore della propria concorrente preferita, la meno votata. Quindi, sarà quella che verrà eliminata dal gioco. Ebbene, i sondaggi social e web di queste ore, vedono in testa Nikita Pelezon, e lei la concorrente che ha meno chance in assoluto di abbandonare la casa più spiata d'Italia e quindi uscire di scena dal cast di questa settima edizione. Le percentuali nei sondaggi sociali del GFG arrivano a superare il 45% delle preferenze per Nikita, la quale non risulterebbe affatto in pericolo. Situazione diversa, invece, per Dana e Nicole che al momento sono le due concorrenti sfavorite per questa nuova eliminazione dalla casa. Ad avere la peggio, infatti, potrebbe essere Nicole Murgia, ad oggi, infatti. L'attrice romana è la meno quotata nei sondaggi social tra i fan del grande fratello VIP. Seppur a poca distanza dall'altra geffina Dana. Chi delle due avrà la peggio definitivamente? Lo scopriremo nel corso della diretta serale di lunedì 16 gennaio. Orice crezi, tine pentru tine. Fii egoista, liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru B-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Graffer-ul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo. Grasul, nimeni altu, te-l vedeți, sau carpo. Tre' să vă mănânc vers cu vers card intens. Tre' să crezi, crezi, ce vrei să crezi? Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când adonim.